Mamma mia! Vagliù, un buongiorno dal vostro Leone di Chef in Famiglia. Leone è sempre su pezzo. Allora, prima di partire con la ricetta dobbiamo partire con la dedica speciale che va al piccolo Gennarino e ai neo papà e mamma Antonio Esposito e Iesa che sono i miei cognati in America. Vagliù, tanti tanti auguri da parte nostra di vero cuore. Tantissimo grone al piccolino che è bellissimo, Gennaro Esposito e mi auguro che un giorno divente il presidente americano del futuro Gennaro Esposito. Affino Romuno, è già bello. Allora, per i neo papà e mamma Antonio e Iesa e per il piccolo Gennarino oggi abbiamo scelto una ricetta proprio fantastica, capace a fascino, proprio a bava proprio, è buonissima. Facciamo una linguina alla Nerano con l'aggiunta di salsiccia fresca. Gli ingredienti stanno qua, gli ingredienti li abbiamo scritti pure alla lavagna, 180 grammi di linguine per due persone, 2-3 salsicce, 1-2 zucchine, dipende dalla grandezza, provolone del monaco grattugiato fresco, olio di semi di arachidi per friggere, basilico e poi, come sempre, amore, cuore, passione, tanta umiltà, che se non volete ascoltare, Gennari e Gaglia, ma fatica insieme. Allora, voglio, come primo passaggio, in olio di arachidi, bello bollente, andiamo a friggere le zucchine che abbiamo tagliate a rondelle, belle sottile, tutti quanti più o meno dello stesso diametro, ok? Dello stesso centimetro. Ok? Fate la bella ruscata ruscata. Nel frattempo che le zucchine friggono, io la salsiccia, ci ho tolto il budello e me lo sto praticamente briciolando tra le mani e la metto nella padella, che ci ho messo un filo d'olio, mi raccomando, la padella deve essere bella rovente, così facciamo fare subito la crosticina alla salsiccia. Mi raccomando, bella rosolata, ehi, Ravolino? Allora, voglio, sempre in velocità supersonica, nel frattempo che le zucchine friggono, la salsiccia sta prendendo bel colore, andiamoci a calare già la pasta, che la pasta, amore, si cala, eh? Sentimento. Ah, voglio, ma è diventata proprio una camionessa proprio, ma sì, ma che mi fa 50 grammi, 70 grammi? Ma veramente, ma a me non mi piace proprio, io andavo a mangiare, ma mangiare, capito? 70 grammi a dietro, che mi fa? Dai, aspettiamo le zucchine, poi le mettiamo nella salsiccia, un mestolino d'acqua, è proprio una magia, poi. Ok, voglio, adesso io mi alzo le zucchine, le metto in carta assorbente, e mo, voglio, ci manca solamente il passaggio finale. Allora, voglio, una volta che le zucchine poi le avete asciugate per bene, andatene a mettere in padella con la salsiccia, la fate saltare giusto un poco, ci andiamo a mettere giusto un poco di sale, perché la salsiccia è già bella carica, un po' di pepe, di solito ci andrebbe il vino bianco con la salsiccia, ma adesso quell'acidità non mi occorre, perché adesso la cremina con il provolone, del monaco, si farà poi con l'acqua della pasta, ok? Adesso la pasta, mi raccomando, la caliamo qua dentro, bella al dente, voglio. Mi raccomando, la pasta bella al dente, l'abbiamo calata direttamente dalla pentola, in padella, e adesso, voglio, che cosa andiamo a fare? Ci andiamo a mettere un altro paio di mestolini di acqua, perché adesso ci occorre proprio l'amido della pasta, ok? Adesso ci andiamo a fare questo sistema qui, adesso stemperiamo un attimino, giusto, giusto un dieci secondi, ok? Che adesso io ci vado a mettere il provolone del monaco a poco alla volta, ok? Perché adesso lo andiamo a sciogliere a poco alla volta, se necessita, perché noi dobbiamo far uscire la cremina, a parte, guai che addore che sta scena, guardate che già sta diventando cremina in pochi secondi, vedete? Adesso andiamo piano piano a metterci il provolone del monaco dentro, che si deve sciogliere, e se necessita, ci andiamo a mettere un altro poco di acqua, e tiè tiè, che gli esce allora, tiè tiè, guardate che qua, voglio a pochi secondi, dalla fine, ci andiamo a mettere, guardate qua, basilico fresco dentro, troppo bella proprio, guardate che cremina che sta scena, leonei, fancelo vorrei, ma se riesce a vorrei, guardate qua, guardate che cremina, mamma mia, oiù, ecco te, oiù, noi siamo pronti per impiattare, ma meno a capire, ma per svizia, guardate qua, e che crema, e che crema, guardate che crema, tiè tiè, marrono, guardate qua che sta crema, oiù, ma per svizia, guardate qua, mietta, mietta, e tiè, mietta, un po' di pizze, di salsiccia, dietro ormai, se ne aiuto, e, mettiamo un paio di fogliolini di basilico, ma va bene una sola, dai, ora ce ne mettiamo due, ma si abbondanti, si sta abbondantum, vaiù, per il piccolo gennavino in America, per il papà Antonio, e la mamma Iesa, una bellissima linguina all'anerano, con salsiccia, vaiù, ecco, voi di caffè, ma veramente, a fine romone, ti, ti, e che ti mani, ma sapete che arriva, un momento più bello, però in un muo mangia il tuo piatto, perché non lo voglio sconciare, perché è brutto, ma già fa 6 mila foto, però, andate a voi, ma già assaggia la linguina, direttamente in la patella, come fanno i fracaturi, rimuolo qua, vaiù, ho provato l'una del mondo, la salsiccia, ma mangio pure la pizza e la salsiccia, non sapevo, guardate come è bello, guardate come è bello, provato l'una, guardate, ma vaiù, vaiù, e a fine romone, la tapprò la tale qua, vaiù, fate la tale qua, e fatemi sapere, e poi, mi raccomando, guardate qua, qua sotto, cliccate mi piace, e a sinistra, cliccate condividi, ma raccomando, vi voglio bene, seguitemi la mia pagina ufficiale, Luigi Scotti, Chef in Famiglia, da solo clicca segui, e io vi amo alla grande, vi aspetto in tanti, e grazie a tutti coloro, che ci stanno seguendo, grazie a tutti i nostri sponsor, in primis Petralia, che ci dà tanta, tanta merce, per continuare questo programma, e tantissimi altri sponsor, il libro cielo grigio, è sempre con noi, ragazzi, vi mando un abbraccio, fortissimo, tanti auguri, ad Antonio, e Chiesa, e piccolo Gennarino, le linguine, la ne vanno con sassiccia, stanno qui, e le mie ricette, sono anche su YouTube, Instagram, e TikTok, vaiù, un abbraccio, dal vostro leone, ciao, ciao, Alla prossima